che statistica impressionante da quando roman reigns è diventato campione universale a payback 2020 ci sono stati ben 67 cambi di titolo nei roster principali della wwe e solo una certezza l'imbattibilità del capo tribù che il 27 maggio raggiungerà i mille giorni sul trono cementando ancora di più il suo nome nella leggenda attenzione nelle ultime ore sono saliti a livello di guardia i rumor relativi al ritorno in azione di drew mcintyre che potrebbe già avvenire nella puntata di stanotte tra l'altro lo scenario sembra perfetto l'imperium come ricorderete ha sfidato kevin owens e semi zane che combatteranno contro il gruppo capitanato da günther avvalendosi della presenza di un terzo alleato misterioso e se fosse proprio drew secondo il wrestling observer l'infortunio rimediato da live morgan è alla spalla e c'è la forte probabilità che debba essere operata perdendo così diversi mesi di attività nel ring la prima conseguenza dell'accaduto è che lei e raquel rodriguez hanno dovuto rendere vacanti i titoli tech team femminili che come credo sappiate verranno riassegnati nella puntata di row successiva a night of champions questa è una bellissima storia che riguarda cody roth che al termine di un live event recente come fa di solito si è fermato a bordo ring per concedersi ai fan più vicini alla barricata che divide i tifosi dalla zona in cui si lotta insomma le solite cose no foto autografi sorrisi e pacche sulla spalla ma ad un certo punto l'american nightmare ha notato un bambino in lacrime forse portato al pianto dal non essere riuscito ad avvicinare il suo idolo e allora ha bloccato tutto cody si è fermato e lo ha raggiunto lo ha consolato lo ha preso in braccio come vedete nella foto e poi lo ha riconsegnato ai suoi genitori lo so lo so sono piccole cose sono gesti minimali ma la magia del wrestling sta anche in questi in una recente intervista steve austin ha parlato di ciò che gradisce e di quello che non lo soddisfa del wrestling moderno il livello delle prestazioni è notevolmente aumentato ha detto e oggi uomini e donne fanno cose incredibili io sono un fan di football e se considero le star del passato come minjo green dei pittsburgh steelers squadra di cui ero un grande tifoso e le comparo con ciò che fanno i loro eredi noto che questi ultimi sono più rapidi più veloci ovviamente tutto lo è eppure le inquadrature televisive sono ottimizzate per questo adesso anche se riguardo l'attitudera sembra che stia vedendo del wrestling alla moviola visto che le star odierne non solo godono di una regia superiore ma sono anche atleti migliori alcune delle sequenze che propongono mi piacciono parecchio ma questo mi porta a ciò che non mi piace e cioè al fatto che c'è troppo della stessa cosa è un pugnale con due lame opposte da una parte rispetto l'atletismo ma dall'altra credo che sia troppo esasperato voi cosa ne pensate vi ritrovate nelle parole di austin ditemelo nei commenti grazie 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 grazie